Ciao, benvenute, benvenuti. Io sono Valentina Vivona di Codici Ricerca e Intervento. Per chi non ci conosce, siamo una cooperativa che accompagna percorsi di trasformazione sociale utilizzando metodi partecipativi e non formali e già da diversi anni abbiamo una pubblicazione che si chiama Codici 404. Si chiama Codici 404 perché per noi è un punto di domanda più che un punto di risposta. È il luogo dove riflettiamo, ci interroghiamo sui progetti che realizziamo e soprattutto intercettiamo persone e organizzazioni che riteniamo competenti su temi per noi urgenti. Ogni anno scegliamo un tema diverso e nel 2021 abbiamo scelto il tema dei corpi che è poi stato al centro non solo della nostra rivista 404 ma anche di una call a sostegno di due ricerche da raccontare. Le ricercatrici vincitrici, Silvia Carabelli ed Elisa Virgili che è qui con noi stasera, condividevano la volontà di rendere visibile ciò che è visibile e di nominare ciò che viene taciuto. Noi abbiamo scelto il tema corpi perché crediamo che la ricerca sociale non si soffermi abbastanza sulle implicazioni sociali della nostra dimensione fisica e anche perché crediamo che parlare di corpi significa parlare di cura e di carico. Entrambe le nostre ricercatrici avevano al centro il corpo femminile e nello specifico Elisa, poi lo spiegherà meglio lei, più dentaglio perché le lascerò la parola, voleva abbattere i tabù relativi alle mestruazioni attraverso dei laboratori nelle scuole durante le ore di educazione fisica. e questa questa necessità di un linguaggio preciso, questa parola tabù e questa volontà di rendere visibile ciò di cui non si parla ci ha portato all'incontro di oggi, a questo dialogo 404 con la casa editrice 79. Qui con noi c'è Anita Rezepi, che ringrazio. Perché la casa editrice nel 2022 ha tradotto in italiano un albo illustrato scritto a otto mani, tra queste e quelle di due educatrici, che ha come protagonista una bambina che è curiosa e vuole scoprire il suo corpo. Su questo lascio proprio la parola a Elisa e sempre perché parliamo di visibilità e invisibilità io scompaio perché seguo il lato un po' più tecnico di di questa diretta e quindi grazie Elisa, la parola a te. Grazie mille Valentina, grazie a Codici per l'invito di stasera ma in realtà anche per tutto il sostegno nei mesi scorsi e grazie Anita di 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 aver accettato questo confronto. Rubo solo qualche minuto in più per insomma raccontarvi qualcosa in più sulla sulla ricerca e soprattutto del perché a un certo punto mi sono innamorata così tanto di questo libro e e ne volevo ne volevo discutere ehm con Anita e anche perché ci sono davvero cioè quello quello che ci piacerebbe fare stasera è darvi alcuni spunti cercare ehm mostrare i punti di contatto tra quello che ho fatto con la ricerca sulle amministrazioni e eh questo testo ma eh soprattutto insomma poi alla fine cercare di lasciare almeno qualche minuto per per le domande eh riguardo alla mia ricerca che si chiama Corpi che sanguinano e che mh Codici mi ha mh sostenuto finanziato e insomma ha dato feedback consigliato aiutato a diffondere è stata una ricerca che riguarda ehm diciamo quel quell'incrocio eh tra biologia e cultura dove stanno le mestruazioni quindi non è stata tanta ricerca sulle mestruazioni e i corpi che che sanguinano dal punto di vista strettamente biologico ma cosa succede eh più dal punto di vista sociale quindi come si sentono le ragazze pur non escludendo una parte molto corporea e molto e molto fisica no anche perché tutto questo è ambientato durante l'ora di scienze motorie quindi nel nell'ora eh riguardante i corpi per eccellenza che però tuttavia a quanto pare riguarda solo certi corpi ovvero un corpo dei corpi maschili è un po' eh diciamo tutto lo sport è costruito su dei corpi maschili però mh pensati come neutri e eh che quindi quando insomma incontrano dei corpi che sanguinano non sanno bene non si sa bene cosa succede non si sa bene come comportarsi da tutti i lati eh dal lato di ragazze e ragazze insegnanti allenatori allenatrici ehm è stato un buon percorso che ha coinvolto tante tante figure in modo diverso nella pratica la ricerca è stata composta da interviste ehm qualitative con delle ragazze eh dai 15 ai 18 anni eh con degli allenatori allenatrici con degli insegnanti di scienze motorie e poi dei focus gruppi invece più più misti molto divertenti direi eh in cui ci siamo molto divertiti in cui il tema era un po' eh quello il fil rouge era questo tabù delle mestruazioni se ci sia ancora o meno come se ne parla come ci si sente eh ad avere le mestruazioni durante le ricenze motorie come lo si comunica eh e quali possono essere delle strategie da mettere in atto per stare meglio per vivere questo momento in modo più più sereno per conoscere meglio il proprio corpo strategie che vanno dall'appunto strategie verbali di comunicazione ma anche banalmente ehm sull'alimentazione su esercizi che eh con cui ci si sente meglio o meno con la piccola e grandissima postilla che tutti i corpi sono diversi quindi queste regole insomma non sono regole così fisse e soprattutto prescrittive e normative sono delle indicazioni ma di cui la regola principale è ogni corpo e ogni persona ogni soggettività fa quello che vuole l'importante è avere tutte le le informazioni disponibili e soprattutto mh comunicarlo in modo sereno con termini adatti e su questo ci torneremo e eh e in modo insomma e mettersi in confronto e mettersi in ascolto dipende un po' da che parte si sta ehm è stato un bello un bel percorso mi sono molto molto stupita ehm sicuramente rispetto alla mia generazione ad esempio ci sono molti meno tabù se ne parla molto più liberamente questo però non vuol dire che ehm che ci siano più informazioni soprattutto che le informazioni siano corrette eh una delle principali delle principali questioni emerse è quella di una eh informazione formazione ehm informale che parte dalle famiglie soprattutto madre figlie e sorelle quindi quella parte della famiglia femminile che conosce il corpo femminile da cui tutto tutto invece il mondo maschile rimane escluso e che in qualche modo invece ehm è emersa molta curiosità molta voglia anche di di essere complici solidali di capire cosa succede alle compagnie persone in classe ehm e la richiesta un po' di 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 avere un'educazione eh sessuale affettiva generale strutturata e che un po' tocchi questi posti tutto questo è in qualche modo ritornato nelle scuole non è stata una ricerca così come dire dietro la cattedra è ritornato nelle scuole grazie ad un poster di una grafica eh Maria Gloria Posani che ha fatto questo poster molto ironico da distribuire insomma negli spogliatoi e con cui poi che poi è stato un po' il pretesto per tornare a parlare con ragazzi e ragazzi nelle classi durante l'ora di scienze motorie di queste di queste tematiche eh vado a chiudere perché davvero voglio lasciare la parola Anita e cominciare un po' a introdurre il libro in quello che abbiamo in comune e e ringrazio nuovamente Valentina per la presentazione perché ci ha dato una bella rimanendo rimanendo dall'ambito sportivo insomma ci ha passato una bella palla eh dicendo che il il mio progetto insieme all'altro ehm di Silvia Carabelli ehm sostenuto da codici aveva la volontà di rendere visibile ciò che è invisibile e nominare ciò che è taciuto allora secondo possiamo secondo me serenamente partire da qua nel senso che una delle questioni principali che riguardano le analisi delle mestruazioni come fenomeno sociale anche è quello che eh Jill Wood chiama l'imperativo a nascondere no che tempo fa era l'imperativo a nascondere nel senso che in certe parti del mondo si allontana o si allontanava la donna dal dal villaggio così si nascondevano sangue e mestruazioni ehm si escludeva in molti molti ambiti la donna dalla vita della vita pubblica eh della partecipazione insomma era qualcosa che non si doveva vedere ehm tuttavia le cose non sono completamente eh cambiate nel senso che pur eh parlandone pur essendo molto più visibile pur essendo una cosa più tra virgolette normalizzata questo imperativo a nascondere passa attraverso dell'imperativo a nascondere eh puoi fare tutto a parte a patto che non si veda che le mestruazioni e questo passa attraverso tutto una logica volendo anche neoliberista no di ehm commercializzazioni di assorbenti che non fanno che non si vedono che non fanno sentire odori eh con cui puoi fare qualsiasi attività puoi essere produttiva puoi lavorare puoi fare qualsiasi tipo di sport tanto non si vede quindi questa doppia questa doppia faccia insomma dell'imperativa nascondere che non è più esclusione ma è inclusione ma ha un certo patto e e questo perché comunque in qualche modo e in questo senso rimane un tabù e su questa parola tabù passo la la parola ad Anita ehm per chiederle un po' di spiegarci in generale cosa di cosa tratta eh questo testo e come eh come cerca di scardinare certi tabù. grazie mille Elisa e grazie anche a Valentina ecco per avermi per averci invitate a questo incontro e sì Lina l'esploratrice questo qui è un albo illustrato che è uscito in agosto di quest'anno pubblicato da sette nove ed è un libro che racconta una storia principalmente che è quella di Lina una bambina che esplora il proprio corpo e lo fa ehm osservando la realtà attorno a sé ponendo anche le delle domande alla sorella maggiore riguardo per esempio alle mestruazioni oppure anche a come si nasce no? E quindi diciamo che è proprio un viaggio esplorativo per questo Lina è un'esploratrice in questa storia ma eh questo libro diciamo che ha la particolarità di avere di aver curato in maniera attenta il il linguaggio che viene utilizzato. In questo senso vorrei anche riagganciarmi un po' alla premessa che ci ha dato Valentina quando ha parlato di corpi e di cura del corpo. Una cura che in questo libro si riflette anche nell'accuratezza del linguaggio. Infatti anche le stesse autrici e l'autore in apertura di questo libro eh si rivolgono al pubblico lettore eh dichiarando esplicitamente che la volontà di questo libro era il nominare la realtà perché alla fine il linguaggio plasma no? La realtà che ci circonda, il mondo che ci circonda e lo plasma, lo crea e lo modella e quindi la Lina d'esploratrice definisce di fatti tutte le parti del corpo in maniera scientifica. Infatti eh parallelamente alla storia ci sono anche delle parti ehm descrittive, scientifiche, anatomiche in cui si nominano tutte le parti del corpo in maniera precisa, si racconta eh l'evoluzione del corpo, come funzionano le mestruazioni, c'è un riferimento anche agli assorbenti che non esiste solo un tipo ma diverse tipologie e i corpi qui sono assolutamente centrali nella narrazione eh e nella rappresentazione della loro complessità, nella loro delle loro differenze. Per esempio c'è una parte del libro in cui si dice che Lina è una bambina curiosa che agguzza sempre la vista anche quando è circondata da corpi nudi e infatti per esempio in questa pagina qui vengono rappresentati diversi corpi no? E eh in questo caso specifico per esempio ci si sofferma sui peli e quindi Lina dice che scopre dei peli da estirpare o da rasare, da acconciare o da pettinare di tutto un po'. Quindi eh diciamo che la specificità di questa pubblicazione è la sua premessa politica anche in questo senso no? Perché il linguaggio è sempre politico e nella misura in cui noi evitiamo di nominare eh certe parti del corpo questa delle repercussioni anche gravi poi. Per esempio una cosa molto interessante che ci ha eh detto una delle autrici è che quando è uscito il libro in Austria perché appunto noi l'abbiamo tradotto dalla casa editrice Axe Perlag austriaca eh ci ha detto che quando è uscito in Austria proprio una lettrice italiana l'aveva scritto in privato dicendole ehm quanto fosse urgente una pubblicazione del genere perché conosceva, aveva letto di una persona che aveva riportato la denuncia di una molestia sessuale da parte di una bambina che non era stata però riconosciuta. Perché? Perché la bambina in questione aveva detto alla famiglia che il nonno le aveva toccato il biscotto. E quindi vediamo poi come eh la mancanza di di parole che non è una mancanza in realtà le parole ci sono siamo noi che non vogliamo utilizzarle ecco abbia poi delle ripercussioni nella quotidianità e anche nel riconoscimento di una eventuale denuncia. E per questo il libro appunto lì nell'esploratrice cerca di portare alla visibilità un po' no? Come hai fatto tu con il tuo lavoro di tutto ciò che viene sommerso di tutto ciò di cui non si parla. Anche perché alla fine mh direi che il problema principale è che noi persone adulte siamo le prime ad aver difficoltà a trattare certe tematiche eh soprattutto con i bambini, con le bambine. Quindi è un problema nostro più che loro. Anche perché l'esigenza c'è. È un'esigenza che parte dai bambini delle bambine nel momento in cui iniziano a parlare a dare un nome appunto a ciò che li circonda sorgono anche le domande nello stesso momento. Così come domande anche nell'adolescenza che si fanno sempre più profonde no? E radicali anche in un certo senso. Ma è una richiesta che parte anche dai genitori stessi. Per esempio quando abbiamo pubblicato il libro, l'abbiamo diffuso la notizia sui nostri canali social e tante persone ci hanno commentato che avevano che avrebbero voluto avere questo libro tra le loro mani quando erano piccoli già loro no? Ma anche la richiesta di un libro di questo genere che venga inteso come uno strumento per affrontare questo argomento perché manca effettivamente. E tra l'altro questo si riallaccia anche un po' all'educazione sessuale e affettiva che manca a scuola come dicevi anche tu no? E che alla fine è una richiesta che viene anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per esempio che nel 2010 aveva proprio stilato un documento in cui si chiedeva l'inserimento dell'educazione affettiva e sessuale nelle scuole a partire già dall'infanzia. e questo è importante anche perché sempre di più i ragazzi e le ragazze oggi ma l'età diciamo viene sempre prima questa richiesta e si va a cercare diciamo le informazioni su ciò che riguarda il sesso nella pornografia. Ora sappiamo anche che la pornografia mainstream soprattutto propone comunque un modello di relazione violento dominante in cui il rapporto di potere è fortemente squilibrato e questo è solo un esempio insomma per far capire anche l'esigenza di un libro del genere che parte proprio dall'infanzia perché bisogna dare gli strumenti bisogna dare le parole e riconoscere appunto il nostro corpo e in questo senso l'educazione alla sessualità non è un semplice dire come evitare di restare incinte e parlare delle precauzioni ma è anche conoscere il proprio corpo per autodeterminarsi per scoprire il piacere in modo tale anche da compiere le proprie scelte nella maniera più libera possibile e incondizionata e lo possiamo fare solo nella misura in cui abbiamo le competenze giuste le conoscenze giuste precise e accurate sia dal lato scientifico ma anche culturale e quello più legato al desiderio e al piacere grazie mille quante cose magari torno un attimo sulla questione specifica del linguaggio un po' perché è stato per tempo il mio ambito di ricerca e sono particolarmente insomma affezionata e sì concordo pienamente il nominare le cose è fondamentale nei casi diciamo più estremi il caso in cui hai citato tu per eventuali denunce per riconoscimenti anche di eventuali violenze quali sono nominare le parti capire quale parti possono essere toccate o no e mi veniva in mente però anche diciamo tutti quei gradi gradi prima di nominare che ho incontrato io nella mia ricerca e vabbè un gioco che facevo io un po' di rompighiaccio nel focus group era chiedere a tutti i ragazzi e le ragazze e ragazzo di mettere dei bigliettini in una scatola in cui nominavano, in cui scrivevano i nomi più strani con cui avevano sentito nominare le mestruazioni e davvero ce ne sono molto strani e con una variazione regionale che sarebbe molto interessante studiare e questo strideva un sacco con poi la superficie delle prime domande quando chiedevo alle ragazze se per loro è un problema se si vergognano, se lo dicono ai compagni, se lo dicono agli insegnanti tutte sì sì sì, figurati, è una cosa normalissima, super autodeterminate poi però quando chiedevi, ma quando non te la senti di fare le scienze motorie perché stai male per le mestruazioni, cosa scrivi sulla giustificazione? Eh no, sono indisposta perché mica il prof deve sapere i fatti miei però se hai la febbre scrivi che hai la febbre cioè come dire, ci voleva molto poco poi a svelare il tranello e soprattutto poi se c'è una docente donna sì le spiego che ho le mestruazioni, come mi sento e il più delle volte ho una reazione come dire di sprono verso fare comunque, provare comunque a fare l'attività però a proposito di nominare invece se ne parlo con l'insegnante maschio il più delle volte ho una completa apparente comprensione nel senso che la maggior parte delle volte gli insegnanti reagiscono dicendo ah sì sì ok, stai pure lì in panchina come dire, non la voglio neanche sentire, non ne so niente non la voglio sentire nella migliore delle ipotesi non voglio impormi su una tipologia di corpo che non conosco, però anche lì non so se è una fortuna che un insegnante che ha delle classi miste non conosca quantomeno dei principi base di altri corpi e il nominare le mestruazioni è molto difficile ed è ancora qualcosa di se vai a scavare un po' più a fondo, sì, è ancora un tabù l'altra cosa che volevo sottolineare invece di quello che hai detto è riguardo l'uso di questo testo o dei lavori che faccio io come strumento educativo che da una parte, come dicevi tu, sono richiesti proprio perché c'è una mancanza di uno strumento un po' più strutturato e che non passa solo attraverso l'informalità perché poi il problema dell'informalità è che lascia totalmente a caso la tua educazione perché dipende molto dalla famiglia che hai dal rapporto che hai con la tua famiglia dal contesto sociale da quanto tempo hanno i tuoi genitori se sono fuori tutto il giorno per lavoro di spiegarti o meno le cose dal paese d'origine, dalla religione ci sono un sacco di fattori che possono influenzare poi l'educazione che hai tu rispetto al tuo corpo e alla sessualità quindi è anche uno strumento così un po' più neutro non voglio dire scientifico forse nemmeno neutro è la parola giusta però insomma con delle indicazioni di base è utile ti ripasso la parola chiedendoti cioè ponendoti la questione un po' del timing che ad esempio sulle mestruazioni è molto importante perché ad esempio da altre ricerche che non sono la mia emerge come la maggior parte delle volte la spiegazione sulle mestruazioni arrivi dopo il menarca quindi troppo tardi e quindi il più delle volte la prima mestruazione sia un evento quasi traumatico perché non se ne sa niente anche perché si sta abbassando un po' l'età media della prima mestruazione e quindi quando invece questo libro secondo voi darlo e poi anche rispetto al fatto che da una parte è stato chiesto ti chiedo invece chi non l'ha chiesto come ha reagito quali sono state un po' le reazioni anche un po' le polemiche rispetto a questo libro beh diciamo che il target a cui ci riferiamo con questo albo come piace sempre dire a me è dai 0 ai più 99 nel senso che non è un libro solo per l'infanzia certamente insomma il linguaggio è quello dei bambini e delle bambine si affronta il tema con leggerezza con ironia anche in alcuni punti ma è sicuramente uno strumento interessante anche per le persone adulte questo sicuramente anche perché tante persone della mia età ma anche più grandi confondono ancora vagina e vulva per esempio che non sono la stessa cosa infatti anche nel libro per esempio c'è questa bella pagina in cui si fa riferimento alla vulva dicendo che ha un sacco di nomi no? c'è chi la chiama patatina chi fiorellino chi rosetta eccetera e tu come la chiami? perché alla fine anche qui come per le mestruazioni ci sono un sacco modi per definirla e non si utilizza quasi mai il termine appropriato quindi sicuramente è un libro che si rivolge a tutto il pubblico in Austria addirittura l'hanno pensato specificatamente per l'età più tre anni e noi l'abbiamo proposto più quattro però ci siamo anche chiesti insomma considerando il pubblico italiano se fosse l'età giusta oppure meno ma siamo restate insomma fedeli anche alla nostra linea editoriale e quindi abbiamo accolto anche diciamo questa prospettiva più internazionale ampia e politica anche in questo senso e per quanto riguarda invece la reazione a questa pubblicazione come ho detto all'inizio c'è stata una bella fetta di persone che ci ha sostenuto e che ha riconosciuto la necessità di un libro di questo genere ma dall'altro abbiamo avuto anche un sacco di critiche e di accuse c'era chi ci accusava di pedofilia addirittura chi di pornografia tante persone dicevano ma perché parlare di queste cose ai bambini che gli roviniamo l'infanzia come se fosse una sorta di trauma in realtà invece il trauma arriva dopo quando ti trovi da sola a dover capire il tuo corpo cosa ti piace cosa non ti piace e poi per poi arrivare ai casi più gravi a capire quando il consenso nostro è affermato oppure viene violato e quindi da qui tutta la vasta gamma delle violenze quindi è uno strumento fondamentale secondo me questo proprio in ottica di prevenzione da una parte di abusi, di violenze ma anche di rafforzamento mi verrebbe da dire dall'altra è un testo molto propositivo è un'esaltazione del corpo del proprio piacere della conoscenza di sé perché alla fine possiamo sapere quali siano le nostre passioni cosa ci piace leggere cosa ci piace fare ma del nostro corpo conosciamo poco perché fa sempre parte del tabù alla fine così come le mestruazioni e quindi insomma questo è quello che penso che rientra anche nella linea editoriale proprio di 7.9 in generale soprattutto in quest'ultimo anno ci siamo concentrate molto sul corpo con le nostre pubblicazioni da diversi a chi per esempio qui con albo illustrato sulle bambini e bambine con disabilità nudità che male fa anche che è un albo che abbiamo pubblicato qualche anno fa ma che ha sempre un grande successo oppure con senso possiamo parlarne questo che è specifico per gli adolescenti ecco diciamo quindi il corpo diciamo è eh sì un argomento senza senza fine senza età secondo me e noi vi ringraziamo per avere perché davvero anche secondo me è uno strumento preziosissimo e anche per tutti gli altri che ci hai un po' raccontato ora allora prima di chiederti un'ultima cosa o se riuscirò a chiedertela chiedo a Valentina se per caso ha raccolto delle domande ok beh intanto ho raccolto dei complimenti sia per la chiarezza del linguaggio sia per i contenuti e allora una domanda chiedeva la disponibilità dei dei poster realizzati per il progetto corpi che sanguinano e e io mi leggo il link nei commenti da cui si può scaricare le metterai il link nei commenti di questa direzione lo metti direttamente tu perfetto io volevo chiedere e spero che non non l'abbiate già detto visto che ero presa tra una cosa e l'altra se sia i vostri poster che il libro mi è stato proprio chiesto come strumento educativo è arrivata questa richiesta esplicita o i ragionamenti sono stati altri per capire proprio come può cambiare questa situazione e e un po' mi chiedo anche se avete riflettuto su sulle ragioni di questi tabù allora sul poster come strumento no non mi è stato chiesto nel senso che era parte del del progetto iniziale proprio come un po' scusa per per tornare nelle scuole quello che hanno chiesto ragazzi e ragazze è una formazione strutturata e sistematica sessuale e affettiva che comprende anche queste tematiche ma come dire criticando molto tutti quei piccoli laboratori spot che entrano nelle scuole ma pretendendo qualcosa di sistematico insomma che vada che si è inserito nel nel programma didattico e la richiesta invece da parte di insegnanti e allenatori è più formazione su queste perché le richieste sono un po' da ambe le parti più formazione revisione dei testi e in generale appunto qualcuno che gli dica cosa fare perché al momento c'è molto spesamento su questo e sulle ragioni di questo tabù non lo so visto che ci sono pochi minuti ti direi banalmente che abbiamo il Vaticano in casa ma neanche questo sarebbe abbastanza esplicativo perché il tabù sul corpo della donna è talmente trasversale anche a qualsiasi religione quindi neanche questo lo spiega Per quanto riguarda l'inale esploratrice invece diciamo che 7.9 in generale trae la sua forza anche dalla rete di insegnanti di assistenti sociali di tantissime associazioni che ci chiedono questi incontri e quindi l'INA diciamo è già presente nelle scuole e nelle biblioteche fortunatamente anche perché c'è una richiesta anche dal corpo insegnante per quanto riguarda le ragioni del tabù condivido quello che ha detto Elisa e tra l'altro ne parlavo proprio ieri anche con la mia terapeuta su questa scissione tra corpo e mente nel pensiero occidentale soprattutto e mi viene da dire che sì da una parte abbiamo Vaticano in casa quindi questa concezione del corpo come peccato dall'altra abbiamo l'influenza anche del platonismo comunque una corrente filosofica che dall'antica Grecia ci ha insegnato che il mondo delle idee è quello perfetto quello del corpo invece è del mondo concreto da condannare e non ci dobbiamo mai fidare e dall'altra c'è questo grandissimo diciamo tema che è quello del patriarcato cioè il corpo della donna soprattutto non deve essere nominato e anche qui ci rilasciamo un po' anche al mito di Eva ma non solo ecco come diceva Elisa è una cosa molto più complessa e trasversale ok ci sarà occasione per approfondire magari in un prossimo incontro e allora io vi ringrazio e ci diamo anche il tempo questo pure mi è stato detto nei commenti per metabolizzare il tutto e elaborare nuove riflessioni e spero ci siano altre occasioni per collaborare sicuramente ci rivediamo qui per un altro dialogo 404 e io vi ringrazio forse l'unica cosa che dico Danita e per i bimbi vuoi annunciare qualcosa? Sì vi chiedo in anteprima che a marzo dovrebbe comunque in primavera uscire la controparte di Ina che si chiama Bruno che invece è un bambino che esplora il corpo maschile quindi anche lì avremo una storia una narrazione e anche la spiegazione poi anatomica anche di ci sarà ovviamente una cura attenta del linguaggio e delle illustrazioni anche perché 7-9 si prende molto cura delle immagini insomma anche quelle di sfondo e secondo piano per cui diciamo che lo strumento educativo si riflette su vari ambiti poi l'ultimo livello è prestiamo Lina ai bambini e Bruno alle bambine così tutto sappiamo tutto e finalmente ci godiamo i nostri corpi in pace esatto sì infatti anche i genitori ci hanno chiesto proprio ma c'è un libro simile per i bambini perché ho mio figlio non so come spiegarli insomma mi sarebbe utile quindi ancora una volta l'esigenza è forte la richiesta è tanta grazie mille grazie a voi è stato un grande piacere buona serata ciao